Allarme rosso per i mezzi della polizia stradale della sezione di Messina che, secondo quanto denunciato dal SILP, il settore di CGL dedicato ai lavoratori di polizia non avrebbe più la disponibilità di carburante per far muovere le volanti. Una nota firmata dal segretario generale provinciale del SILP, Salvatore Vinci, mette in rilievo in particolare la situazione del distaccamento della polstrada di Sant'Agata Militello, puntando l'indice contro il Consorzio Autostrade Siciliane. che non avrebbe pagato, così come da convenzione, le fatture emesse dai distributori di carburante per la fornitura delle volanti in servizio di controllo sulla tratta Santo Stefano di Camastra-Patti. I gestori, scrive il sindacato, stanchi delle inadempienze del CAS, hanno deciso di non concedere altre deroghe fin quando non verrà saldato il dovuto, cosicché il comando è stato costretto a tenere ferme le pattuglie ai caselli con i serbatoi quasi a secco, non effettuando più il servizio in ambito autostradale, salvo emergenze. L'allarme lanciato dal SILP ha certamente creato clamore, generando però perplessità e qualche disappunto tra i vertici della sezione di Polizia Stradale di Messina. Raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, il dirigente della Polizia Stradale messinese, Sergio Iannello, ha infatti ridimensionato la portata della vicenda. Posso confermare, ha dichiarato Iannello, che le nostre volanti stanno espletando regolarmente i servizi sul territorio di competenza, senza particolari restrizioni né situazioni di emergenza. Secondo quanto trapela però da fonti non ufficiali, quanto denunciato dal SILP sarebbe effettivamente esistente, con i gestori delle stazioni di servizio che vantano diversi crediti arretrati da parte del CAS. Il problema però non sarebbe certo nuovo e come già avvenuto in passato, il pattugliamento ed il normale servizio effettuato dalle volanti sarebbe comunque assicurato attraverso l'utilizzo di fondi propri da parte della Polizia.